Oltre 5.000 le multe emesse fino ad oggi dall'attivazione del sistema di videosorveglianza, un centinaio solo nel mese di maggio. E questo è il bilancio dell'azione di controllo condotta dalla Polizia Municipale di Quarto su tutto il territorio per scoraggiare il fenomeno dello sversamento illegale dei rifiuti. Nonostante il Comune sia coperto nella sua totalità dal servizio di raccolta differenziata porta a porta, infatti la città, in particolare le zone più isolate, continuano ad essere prese di mira da incivili, che proprio non riescono a fare a meno di sversare rifiuti di ogni genere agli angoli delle strade. Solo qualche giorno fa ci giunse la segnalazione di un residente di via Crocillo che chiedeva maggiore sorveglianza. In realtà la Polizia Municipale, nonostante il ridotto organico, da tempo ha messo sotto stretta sorveglianza le zone maggiormente soggette al fenomeno di sversamento dei rifiuti. Non solo mediante le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, 18 collocate in più punti della città, ma anche attraverso pattugliamenti in borghese sin dalle prime luci dell'alba. È sconfortante, ammettono gli agenti, scoprire che nella maggior parte dei casi sono gli stessi abitanti di Quarto e spesso i residenti stessi ad abbandonare strada, rifiuti domestici e materiale ingombrante. Anche se va detto che tra coloro che si sono visti recapitare a caso un'ammenta pare a 100 euro, nel migliore dei casi, vi sono anche residenti di altre città, tra questi putiolani e fino anche napoletani. Molto spesso inoltre accade che i soggetti colti ad abbandonare i sacchetti neri ai bordi delle strade siano sottoposti a tutta una serie di verifiche che fanno emergere altre irregolarità. È capitato ad esempio che uno dei furgoni ripresi dalle telecamere sia stato sottoposto a sequestro perché sprovvisto di rassicurazione bollo. Pugno duro della polizia municipale dunque contro chi attenta alla salute e al decoro urbano, anche per quanto concerne altre zone della città oggetto di atti di vandalismo, come la villa comunale, dove denuncia il comandante Castrese Fruttaldo, ripetutamente vengono rotti i lucchetti dei cancelli per poter penetrare al suo interno oltre l'orario di chiusura. Anche in questo caso sono al vaglio le immagini riprese dalle telecamere della zona che a breve verranno ulteriormente potenziate.